Buongiorno a tutti e a tutte, su incarico del Presidente Stefano Allasia dichiaro aperta la seduta delle interrogazioni di interpellanze. In merito allo svolgimento delle interrogazioni di interpellanze, come recitano l'articolo 99 e 101 del regolamento, oggi si provvederà a rispondere come segue. Interrogazione ordinaria numero 1306, presentata dal Consigliere Domenico Rossi, risponderà l'Assessore Fabio Carosso. Chiedo agli Assessori, che rispondano alle interrogazioni e alle interpellanze, di disporre l'invio via mail delle risposte scritte agli interroganti e dall'ufficio d'aula. Ricordo agli interroganti che nel resoconto della seduta che viene trasmesso via mail in visione a tutti i consiglieri intervenuti dall'ufficio a resocontazione prima della pubblicazione e poi pubblicato integralmente in banca dati, è reperibile la trascrizione integrale di tutti gli interventi, sia degli interroganti che degli Assessori che rispondono. Ricordo ancora che per le interrogazioni ordinarie non è prevista illustrazione da parte dell'interrogante. È prevista la risposta del componente della giunta per cinque minuti e la replica dell'interrogante per altrettanti cinque minuti. Prego i consiglieri e gli Assessori di attenersi rigorosamente ai tempi. Iniziamo ora e concludiamo i lavori con l'interrogazione ordinaria numero 1306, presentata dal Consigliere Domenico Rossi a venta d'oggetto. Variante piano regolatore Farano Varese. La giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Fabio Carosso. Prego Vicepresidente, ne ha la facoltà per cinque minuti. Perché nelle interrogazioni ordinarie c'è prima la risposta della giunta e poi la risposta. Ho visto che siete stati attenti, grazie. Prego. Bene, allora l'interrogante chiede se la variante parziale numero 11 al piano regolatore generale del Comune di Farano Varese sia coerente con i piani sovraordinati di competenza regionale, in particolare con il PTR, piano territoriale e il piano paesaggistico regionale. Al riguardo del punto 5 del disposto del deliberativo di cui al delibera del 2 del 18 gennaio del 23, di approvazione della variante parziale numero 11, dato che sono stati pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti ed immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala del locale contenute nel piano paesaggistico regionale, approvato il 3 ottobre 2017. Nel caso della variante in questione, dalla lettura della delibera, si evince che la sovrintendenza archeologica delle belle arti del paesaggio per le province di Biela, Novara, Verbagno e Cusorsola e Vercelli ha ritenuto che la variante in ogenza debba essere assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica, la VAS, in quanto prevede interventi di rilevante impatto ambientale su un territorio di notevole valenza paesaggistica. Occorre comunque precisare che ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 della legge 56 del 77, l'autorità competente per la VAS e il Comune e che la Regione, ai sensi del DZR 29 febbraio 2016, numero 25, 2977, non risulta neppure tra i soggetti individuati con competenze ambientali di questo tipo di varianti. Mi discende che la decisione e la responsabilità in merito alla VAS è di esclusiva competenza del Comune e che come espressamente richiesto dall'articolo 12,5 del Decreto Legge 152 del 2006, deve motivare il risultato della verifica di associabilità al VAS e adempiere agli obblighi e a trasparenza. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, grazie anche all'Assessore Vicepresidente Carosso per la risposta. Ma guardi Assessore, in realtà già nella sua risposta lei richiama quelli che sono dal nostro punto di vista gli elementi di criticità che ci hanno portato a presentare questa interrogazione, cioè in particolare la decisione del Comune di non procedere con la VAS. Nonostante, questo noi lo vogliamo sottolineare, non soltanto la sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Vicioe e Vercelli, abbia presentato delle indicazioni in questo senso, ma noi sappiamo che anche l'ASL di Novara e l'ARPA hanno presentato delle perplessità. L'ASL in particolare ha espresso perplessità riguardo la proposta di realizzare magazzini verticali a 20 altezza fino a 30 metri ed in particolare rispetto alla loro integrazione nel contesto paesaggistico di Fara Novarese. E anche fra l'altro con una votazione sul traffico che questa variante porterebbe. L'ARPA ha sottolineato che l'attuazione delle varianti in questione può comportare impatti sulle matrici aree, acqua, suolo, rumore, paesaggio e inoltre ha evidenziato l'acune criticità nell'analisi ambientale proposta che suggerirebbe la necessità di una VAS. Quindi diciamo così che anche ARPA ha come la sovrintendenza che è di una VAS. E in più chiaramente c'è il tema del consumo di suolo che in questi casi chiaramente interviene perché qui siamo anche in un recupero di un'area industriale, quindi probabilmente dal punto di vista del consumo di suolo adesso non conosco nel dettaglio il progetto, abbiamo un elemento meno impattante. Ma sicuramente diciamo c'è del consumo di suolo, c'è un recupero anche di un'area già industriale ma dal punto di vista sia delle altezze che delle conseguenze dal punto di vista paesaggistico ambientale non il sottoscritto ma appunto ASL, ARPA e sovrintendenza chiederebbero diciamo di fare la VAS. Dalla risposta Vicepresidente capisco che da un punto di vista tecnico la scelta da quello che ho capito e ho ascoltato è in capo al Comune che poi però risponde, se non ho capito male, non ho capito bene a chi eventualmente del fatto che la scelta di non fare la VAS se ne assume la responsabilità. Noi riteniamo come dire poco prudente il fatto che di fronte a osservazioni come quelle di ASL, ARPA e sovrintendenza non si proceda alla VAS e quindi cercheremo di approfondire anche sulla base della risposta che lei ci ha fornito se ci sono elementi come dire che ci consentano poi di approfondire ulteriormente il tema della VAS per quanto riguarda questa variante di piano regolatore. Grazie. Grazie, ringraziamo il Consigliere Domenico Rossi per la replica e nel ringraziare il Presidente Stefano Allasia per l'incarico dichiaro chiusa la seduta delle interrogazioni ed interpellanze e alle ore 10 il Presidente aprirà la seduta del Consiglio regionale. Grazie e buona salute a tutti e a tutte. Grazie. 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 Buongiorno. Buongiorno. Non riesco a vedere quante tessere sono inserite, ma mi sembra così a naso che non ci siano le condizioni per iniziare la seduta, mancando il numero legale, che è 21, perciò rinviamo alle 10.31, 32. Via. La seduta, 10.35, la seduta è sospesa, la seduta è rinviata. Grazie. 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 non so, se non c'è uno, dalle sue quali sono? non manca uno, si che manca adesso, non manca Paolo Ruzzle si chiedeva la ruzzola, la biletta di Bucciani perché? mi ha fatto una notcata si ma Radeco di lui ha scritto già prima no, ma scusa, ma Bucciani l'ho visto sapeva il sito a rischio ma dici se avrebbe tardi posso registrare mezzo alla fine? chi ha? si e anche il presidente noi abbiamo una trombata credo eh si, anche perchè non c'è l'aspetto anche perchè il suo competitor che ha ha giocato la gamba dentro il suo competitor che ha il suo Deafo che ha visto il nostro che ha visto sulla rapide il nostro paese il nostro paese è chiaro non c'è l'abbiamo è un po' Grazie. 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 La seduta è sospesa. Grazie. 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 Colleghi, se prendete posto, possiamo iniziare la seduta. Grazie. La seduta riprende, do atto che l'ordine del giorno è stato comunicato con la convocazione. Chiedo se vi siano proposte di modifica. Presidente Maliano, prego, ha chiesto ad intervenire. Grazie presidente, se fosse possibile chiederei l'iscrizione dell'ordine del giorno 939. oggetto l'importanza della nomina dei componenti della Commissione Piano Regionale IDS, una commissione che doveva essere nominata ormai mesi e mesi fa e avrebbe dovuto avere il compito di coordinare tutte le attività legate al contrasto di questa infezione da virus dell'immunodeficienza umana. L'HIV è fondamentalmente una malattia, è una condizione che ad oggi non riempie più le pagine dei giornali, ma i numeri di contagi sono in aumento, cosa che non viene purtroppo più raccontata anche grazie alle terapie che sono state scoperte. Però è importante che vi sia questa commissione, questa commissione è stata prevista da norme nazionali e regionali e allora mi sono permesso, Presidente, di presentare quest'ordine del giorno affinché nel caso votato si istituisca quanto prima questa commissione sul piano regionale IDS. Grazie, Presidente, ho concluso. Chiesto di intervenire il Consigliere Stecco. Sì, Presidente, volevamo inserire nell'ordine del giorno e possibilmente chiedere all'Aula di trattarla oggi, vista la circostanza della settimana e della scadenza, l'ordine del giorno 937, inerente alla lotta internazionale e quindi anche italiana e anche del Piemonte al papillomavirus e quindi al cancro della cervice e altri cancri virus correlati. Ci sono delle azioni che si stanno facendo e che vorremmo accompagnare come Consiglio regionale con questo ordine del giorno e che vorremmo anche, insomma, che in progressione portassero ai risultati disperati. Grazie. Grazie. Se è possibile, lo chiedo, trattarlo dopo le leggi. Chiesto di intervenire la Presidente Frediani, prego. Grazie, Presidente. Ieri ho ricevuto la documentazione richiesta rispetto allo studio per il dimensionamento del nuovo ospedale per Torino Nord e ho dato un'occhiata allo studio e alle modalità attraverso le quali si sia sviluppata la decisione di edificare al parco della Pellerina, accanto al parco della pallina, diciamo così. Io chiederei, se possibile, un'informativa all'assessore Icardi per discutere anche di fronte ai cittadini rispetto a questa scelta che va a impattare fortemente su uno dei pochi polmoni verdi che ancora rimangono nella città di Torino, tanto più che tra le varie informazioni ho visto che ci sarebbe un ampliamento necessario del lotto di 13 mila metri quadri e che l'impatto della struttura che si ipotizza di costruire avrebbe anche uno sviluppo in verticale di circa sette piani. Quindi credo che sia piuttosto difficile dire che non si andrà ad impattare fortemente su uno spazio verde della città e credo che sarebbe il caso di condividere le modalità attraverso le quali si è giunti a questa decisione, anche perché dalle tabelle che vedo riportate nello studio c'è stata una scelta di dare maggior peso ad alcuni criteri che si sono considerati rispetto ad altri. Ovviamente nel momento in cui si va a fare una scelta ponderata si va anche a guidare in qualche modo la decisione. La scelta ponderata tra l'altro è stata effettuata in accordo con l'assessorato all'urbanistica del Comune di Torino, quindi l'ideale sarebbe ovviamente questo è uno spunto che lancio anche ai colleghi, di organizzare una commissione congiunta con il Comune di Torino per discutere di questo tema, perché c'è stato un rimpallo nei mesi scorsi che non ha consentito di chiarire perfettamente l'iter che si è scelto di seguire. Grazie. Grazie, ha chiesto di intervenire il Presidente Buongioanni. Grazie Presidente, chiedo l'inserimento nell'ordine dei lavori dell'ordine del giorno che ho presentato ieri sera, condanna delle violenze al corteo tenuto su Torino in Piazza Solferino il giorno 4 marzo e se è possibile che sia inserito subito in coda quello del Presidente Stecco che ha richiesto precedentemente. Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Sarno, prego. Grazie Presidente, anch'io chiedo l'inserimento nell'ordine del giorno di un atto di indirizzo che abbiamo depositato questa mattina, adesione al Manifesto della Comunicazione Non Ostile. È un percorso nazionale e anche internazionale che vedrà il coinvolgimento di molte istituzioni locali e anche regionali oltre che nazionali nel mese di aprile. questo movimento istituzionale e non solo chiede a tutti gli enti, anche alle regioni e ai consigli regionali di discutere, approvare e condividere un manifesto sul tema delle parole ostili in particolare nel mondo web ma anche nella comunicazione politica e quindi c'è un manifesto ad hoc proprio per chi come noi ha un ruolo pubblico, ha un ruolo istituzionale e un ruolo politico. Quindi non chiedo di discuterlo ovviamente oggi, non è così urgente ma credo nelle prossime settimane sarebbe bello che poi il Consiglio regionale, speriamo anche la regione, possa partecipare a quell'evento di aprile arrivando con l'approvazione di questo manifesto da parte di quest'Aula. Grazie. Grazie, chiesto di intervenire il collega Sacco. Grazie Presidente, io invece chiedo l'inserimento della mozione che ho depositato qualche giorno fa sull'istituzione della Procura Nazionale del Lavoro, considerato che ogni anno ci ritroviamo qui a fare il consuetto minuto di silenzio purtroppo per le persone che ogni anno in Piemonte perdono la vita sul luogo di lavoro e proprio come politica, come Consiglio regionale ma anche come politica nazionale dobbiamo fare di tutto per fare in modo che da una parte ci sia il massimo della prevenzione rispetto a questo fenomeno e dall'altra parte garantire la corretta giustizia alle vittime, considerato che già nella scorsa legislatura era stato depositato una proposta di legge sull'istituzione della Procura Nazionale del Lavoro a livello nazionale ed è stato sottoscritto da diversi parlamentari piemontesi, alcuni ancora in carica, chiedo appunto di inserire all'interno dell'ordine del giorno nel primo slot utile da parte del Movimento 5 Stelle quindi in sostituzione del primo ordine del giorno in programmazione in modo da poterlo discutere il prima possibile e richiedere che a livello centrale si faccia il possibile per avere quanto prima questa procura che possa garantire un ugual diritto a tutti quanti a livello nazionale. Grazie. Grazie, chiedo se ci siano altre richieste, se non ci sono possiamo, se nessuno è contrario, possiamo considerare inserite i nuovi ordini del giorno, quelli 940 del Presidente Bongioanni, il 939 Magliano e 937 del Stecco con la richiesta dal Presidente Stecco e Presidente Bongioanni di trattarli nella seduta odierna, poi c'è una richiesta di sacco dell'inserimento della mozione 934 e poi Sarno 941 con anche la richiesta di informativa della Presidente Frediani Qua è sulle valutazioni sull'ospedale di Torino Nord, c'è raggiunta e presente, se intende intervenire. Se non ci sono conclari possiamo proseguire. L'ordine del giorno è approvato in senso dell'articolo 58 del regolamento. Passiamo al punto all'ordine del giorno successivo sulla proposta di legge 141, norme regionali In materia di spropriazione per pubbliche utilità del Consigliere Marin, il relatore di maggioranza Marin e Ruzzola, il relatore di minoranza Marello, il prevenuto è stato licenziato a maggioranza dalla seconda commissione. Do la parola al relatore di maggioranza del Consigliere Marin. Prego. Grazie Presidente, questa proposta di legge che ho presentato il 22 aprile del 2021 è una proposta che mi è stata ispirata da un'esperienza che ho avuto come sindaco di una piccola realtà di comuni sotto i mille abitanti. Decidiamo come Consiglio Comunale di realizzare un sentiero pedonale da utilizzare con le racchette da neve durante la stagione invernale della larghezza di un metro e cinquanta e a fronte di 11 mila Euro di lavori sostanzialmente abbiamo speso 6 mila Euro di procedure che non erano fra l'altro espropriative di particelle catastali, ma di asservimento sostanzialmente a pubblica utilità di questo tracciato. Allora a questo punto dico, ma se il 60% di quello che sono eventualmente l'investimento si deve spendere in procedure ed è denaro pubblico, c'è qualcosa che secondo me non funziona. Allora a fronte di questo il motivo per cui ho ritenuto di procedere è perché questo disegno di legge intende disciplinare la materia dell'espropriazione di pubblica utilità, ma anche chiaramente quello che è l'asservimento, in tutte le fasi del procedimento, sulla base di principi di quello che è il DPR 327-2001, cosiddetto il testo unico degli espropri. L'istituto dell'esproprio è regolamentato dalle disposizioni sopracitate, essendo stato emanato prima della riforma del titolo quinto della Costituzione. Ha comportato nelle iniziali fasi applicative numerosi dubbi interpretative in ordine ai margini entro cui la legislazione regionale poteva eventualmente muoversi ed espandersi. L'impatto della riforma costituzionale sulle competenze legislative in punto di espropriazione può essere meglio apprezzato inquadrando la situazione precedente e analizzando come il testo unico, senza alcuna apparente consapevolezza dell'imminente revisione, ha preso via. A tal fine occorre considerare che l'espropriazione è definita come materia, cioè come categoria di interessi oggettivamente individuata, solo negli ultimi statuti speciali delle regioni, mentre non compare nell'elenco originario nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia la tesi che si affermerò all'indomani del primo trasferimento di competenze alla regione, superando dissensi anche autorevoli, fu che l'espropriazione non è una materia, ma è un istituto servente. Una potestà amministrativa strumentale ad ogni interesse pubblico, a cui risulti funzionale l'acquisizione di un bene. In base a tale considerazione non tardò a farsi strada il principio per cui l'espropriazione costituisce una funzione propria e non delegata delle regioni, e non riferibile ai soli lavori pubblici, anche se storicamente trattasi di riferimento primario, infatti l'istituto è strumentale alla cura di interessi ascrivibili ad altre materie regionali, come l'agricoltura, le cave, il turismo, i porti lacuali, eccetera, che non richiedono o non sempre richiedono l'esecuzione di lavori pubblici. Ben si comprende allora come il testo unico si raccorda con le competenze legislative regionali anche riforma del titolo quinto. Esso raccoglie e coordina le norme sul procedimento espropriativo e sull'indennità che antecedentemente erano contenute in una pluralità di fonti. Contenute nell'articolo 58 del testo unico, conta infatti 140 tra leggi e articoli di legge. Ed è applicabile a tutte le spropriazioni per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Disciplinando per considere, così dire, orizzontalmente una funzione che può trovare modo di esplicarsi in varie materie regionali, nei confronti delle regioni ordinarie, era idoneo ad esprimere forza vincolante in quanto contenente i principi fondamentali della potestà oblatoria, quale attività amministrativa strumentale alla cura degli interessi retti a materia. Operazione questa che non dava luoghi a dubbi di costituzionalità, poiché, così come lo Stato poteva dettare i principi fondamentali per ogni singola materia, poteva altresì estrapolare un istituto comune alle varie materie e disporre i principi fondamentali ad esso relativi, destinandoli ad operare trasversalmente in tutti i settori di competenza regionale. Nel nuovo articolo 117 della Costituzione, essendo ormai ius receptum che l'espropriazione non costituisce materia, non compare nessuno dei blocchi di competenze. Pertanto, sostanziandosi in un istituto trasversale, funzione servente strumentale, essa non può che costituire oggetto di disciplina esclusiva rispettivamente dello Stato e delle regioni, nelle materie in cui talienti hanno potestà legislativa esclusiva, di disciplina concorrente delle materie di competenza ripartita. Partendo da queste premesse, il presente progetto contiene i seguenti elementi innovativi. L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della disciplina e stabilisce che le norme sull'espropriazione riguardano anche quelle promosse da soggetti privati. Questo è fondamentale, questo passaggio, perché effettivamente andava opportunamente chiarito, anche se in realtà su una legge specifica sulle aree sciabili era già contemplato. L'articolo 2 pone l'obiettivo di abbattere i costi delle notificazioni e comunicazioni prescritte nell'ambito del procedimento. Sostituisce il ricorso alla notifica con le forme degli atti processuali civili mediante l'utilizzo della PEC, qualora ci sia il domicilio legale, o in subordine con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Al fine di comprendere meglio la portata del testo relativamente all'abbattimento dei costi in capo a vari enti pubblici, si riporta a titolo meramente esemplificativo il caso che ho citato prima del Comune di Sestriere. Se noi facciamo un esempio di cosa significa in termini di costi. Indicativamente i costi su cui si può abbattere sono di circa due terzi rispetto alle procedure classiche di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario. Se noi facciamo una media di 20 mila Euro, che è proprio il minimo su cui eventualmente si ragiona tra il piccolo e eventualmente il grande comune, proviamo a moltiplicare i 20 mila Euro per ogni comune, per i 1.171 comuni, significa superare i 20 milioni di Euro annui che la pubblica amministrazione comune eventualmente deve inserire nei propri bilanci. Credo che in fasi come queste, la quinta legge che presento e come tutte le altre non ho previsto ogni rifinanziare, perché vanno fatte le leggi in cui eventualmente devi cercare di risparmiare spesa pubblica e non eventualmente di andarla ad incrementare. L'articolo 3 supera una difficoltà interpretativa dell'articolo 14 della legge regionale 2, che era l'enorme in materia di pratica degli sporti invernali. Si precisa che l'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, compresi gli impianti di risalita, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del DPR 327-2001, che è il testo unico degli espropri che abbiamo parlato prima. Il soggetto competente alla dichiarazione di pubblica utilità è il soggetto espropriante, pertanto l'articolo 3 precisa che qualora la richiesta di istituzione coattiva di servitù di area sciabile di sviluppo montano sia avanzata da un soggetto pubblico o privato, la Regione Piemonte, titolata la gestione del procedimento in quanto autorità espropriante, qualora trovi un accordo con l'ente territorialmente competente, comuni o unioni montane, può delegare a quest'ultimo la gestione dell'ital previsto dal testo unico espropri per addivenire all'imposizione della citata servitù. L'articolo 4 viene semplificata la procedura di cui l'articolo 21 del testo unico espropri per la nomina del terzo tecnico nella procedura per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, articolo 4. L'articolo 5, invece una norma di coordinamento con la legge regionale 2 del 2009, sono individuate l'articolo 6 in modo esplicito mantenendo tuttavia i criteri previsti dell'attuale legge regionale 2 del 2009, i criteri per il calcolo dell'indennità, per l'imposizione delle servitù per opere lineari e per le aree sciabili e di sviluppo montano. L'articolo 7 contiene la norma di neutralità finanziaria che tra l'altro appunto la proposta era stata licenziata in seconda commissione l'8 febbraio del 2023 dopo aver acquisito il parere di competenze della prima commissione consigliare sulla clausola di neutralità finanziaria. Grazie Presidente. Grazie, ringraziamo il Presidente Walter Marin per la relazione, ha chiesto di relazionare come relatore di minoranza il Presidente Maurizio Marello. Prego, collega nella facoltà. Grazie Presidente. Intanto ringrazio collega Marin per la pregevole lezione di diritto costituzionale sull'articolo 117 che ci ha dato, ma lo dico seriamente, forse memore dell'impugnazione che il Governo ha fatto alla sua legge di semplificazione in materia di edilizia urbanistica, dove su alcune norme appunto il Governo ha rilevato il fatto che la materia era di competenza statale e non di competenza regionale. Sicuramente è un nodo molto problematico quello, quindi non è facile spesso districarsi in questa materia. Sul punto mi permetto soltanto di dire che effettivamente questo breve testo di legge è suddivisibile in due parti, c'è l'articolo 1, la prima parte che riguarda le espropriazioni in generale, quindi le espropriazioni immobiliari e di diritti immobiliari e una seconda parte che riguarda invece in maniera più puntuale norme che riguardano l'imposizione delle servitù delle aree sciabili, norme che sono già contenute nella legge 2 del 2009, quella che disciplina appunto la materia degli sport invernali. Ecco, il primo punto, dicevo, sulle norme che riguardano in generale le espropriazioni, è un po' questo il punto su cui occorre focalizzarsi per capire se effettivamente la Regione abbia potestà o meno di incidere, se quindi ritenere tale materia un'esclusiva competenza dello Stato oppure se essendo materia strumentale e trasversale è possibile incidere come Regione. Indubbiamente la proposta che viene fatta, se sarà accettata dal punto di vista delle competenze, quindi se non verrà impugnata, è una proposta interessante perché va a snellire la procedura soprattutto per quanto riguarda le notifiche, inserendo la notifica a mezzo PEC, quindi uscendo un po' dall'esclusiva per quanto riguarda le notifiche ufficiali e giudiziari, quindi andando verso una semplificazione, snellimento e velocizzazione della procedura e anche ad una sua economicità, tutto si tratterà di vedere se questo la Regione lo può fare, su questo il collega Marini ha evidenziato, anche citando fonti, che questo è possibile, io su questo mi rimetto, ci rimettiamo poi a quelle che saranno le valutazioni di legittimità costituzionale che il Governo farà nel momento in cui riceverà questa legge. C'è poi una seconda parte che riguarda l'imposizione delle servitù su aree sciabili, qui dicevo la norma di riferimento è la legge 2 del 2009, legge regionale, in particolare l'articolo 14 e qui il collega Marini ha già evidenziato alcune modifiche di questa norma per quanto riguarda il tema delle indennità e per quanto riguarda il tema del modo di procedere e qui credo che la novità sia proprio costituita dal fatto che la Giunta dovrà disciplinare con una sua convenzione questo modus procedendi rispetto al quale demanda come autorità, diciamo l'ente locale, come autorità che guida questa procedura che può essere attivata sia dal pubblico che dal privato. Ecco, quindi queste sono, mi sembra in sintesi un po' i contenuti principali di questa norma rispetto alla quale si può valutare positivamente il tentativo di una semplificazione e dall'altro però occorre poi valutare con attenzione soprattutto per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 la loro legittimità costituzionale ma su questo credo che come dicevo prima sicuramente il governo farà un attento esame. Grazie, ringraziamo il Presidente Maurizio Marello per la relazione, chiedo al Capigruppi di sé, comunque do ora la parola al relatore di maggioranza, Presidente Ruzzola. Prego, Presidente, nella facoltà. Grazie Presidente, ma direi che i miei due colleghi che mi hanno preceduto, tanto il collega Marin quanto Marello, sono stati pienamente esaustivi, quindi la doppia ridustrata. Grazie, ringraziamo il Presidente Paolo Ruzzola. Non vedo mani alzate, ma mi sembra che il Presidente Preoni abbia chiesto in qualche modo la parola. Do la parola al Presidente Preoni, prego Presidente. Grazie Presidente, lo volevamo in confronto di cinque minuti perché dobbiamo analizzare due vendamenti, grazie mille, se ci dà un cinque minuti di sospensiva. Vedo che c'è accordo, quindi sospendiamo la seduta per cinque minuti, riprenderà la seduta alle 11.30, grazie. Grazie a tutti. 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 Buongiorno, la seduta riprende, grazie, chiedo ai consiglieri di prendere posto. Quindi è aperta la seduta, scusate, la discussione generale, se qualcuno vuole intervenire in discussione generale sulla proposta di legge 141 Marine, norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità, non vedo mani alzate. Grazie a tutti. Chiudo la discussione generale, entriamo nell'articolato. Allora, articolo 1, non ci sono emendamenti, chiedo se ci sono qualche dichiarazione di voto. Vedo, scusatemi, vedo che sono entrati in aula i colleghi, volevate intervenire sulle bombe, va bene, quindi non vedo né dichiarazione di voto sull'articolo numero 1. Metto in votazione l'articolo 1. 22. Uè? 3. ando! Ne Grazie. Non vedo mani alzate, metto in votazione l'articolo 2. Grazie. Grazie. Non vedo mani alzate, quindi metto in votazione l'articolo 3. Grazie. 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 Chiusa la votazione, articolo 4 approvato, passiamo ora all'articolo 5. E sull'articolo 5 c'è l'emendamento 3, aggiuntivo Marin, chiedo se vuole illustrarlo. Lo do per illustrato, grazie. Grazie, Presidente, lo dà per illustrato, quindi mettiamo in votazione l'emendamento 3, aggiuntivo Marin, metto in votazione. Grazie. 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 Enendamento approvato. Grazie a tutti. 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 Articolo 7 approvato. Grazie a tutti. 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 Chiudo la votazione. La proposta di legge numero 141 è stata approvata. Passiamo ora al punto 3, proposta di deliberazione numero 264, modifiche allo statuto ed fondazione centro per lo studio e documentazione delle società di mutuo e soccorso ONLUS. Il provvedimento è stato licenziato a maggioranza dalla sesta commissione il 16 febbraio scorso. Do ora la parola all'assessore Vittorio Appoggio per l'illustrazione. Prego, assessore. Presidente, chiedo un attimo se me lo consentite e anche all'aula un momento di sospensione. Bene accordata la sospensione, 5 minuti. Iniziamo alle 12.05. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Riapriamo la seduta. Do la parola all'assessore Vittorio Appoggio per l'illustrazione della... Grazie Presidente. Allora, è una proposta di modifica statutaria della fondazione SOMS, che sono le società di mutuo soccorso, che viene proposta, diciamo, al Consiglio regionale, avendo avuto già un passaggio in commissione, per cui in, diciamo, Consiglio e la ratifica. C'era stata una deliberazione del Consiglio regionale, che era la numero 184, del 31 ottobre del 2001, in cui era stata approvata la partecipazione della Regione Piemonte alla Costituzione, in qualità ovviamente di socio fondatore, l'altro socio fondatore è il coordinamento regionale delle SOMS, della fondazione, appunto, centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso, che poi sono, diciamo, ONLUS, sulla base dello statuto ad esso allegato, che poi costituiva la parte integrante e sostanziale di quella delibera. Poi con una lettera del 22 febbraio, che è protocollata il 1325 del 2022, era pervenuta la direzione regionale, cultura, commercio, settore e valorizzazione del patrimonio culturale, il Presidente della fondazione ha richiesto l'approvazione da parte della Regione Piemonte di queste modifiche statutarie, che andavano ad adeguarsi e quindi rendersi coerenti a quelli che erano i dettami del terzo settore. Le modifiche quindi statutarie sono necessarie perché? Per mettere l'iscrizione della fondazione al registro unico del terzo settore, così come richiesto dal settore regionale competente, che è quello delle politiche per i bambini, le famiglie minori e i giovani, sostegno anche a quelle che sono situazioni di fragilità. Per cui le modifiche in realtà, che cosa permettono? Di condividere contenuto dello statuto della fondazione, centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso, la Giunta regionale quindi ha proposto al Consiglio regionale di approvare queste modifiche che sono state apportate allo statuto stesso, che ovviamente non ne alterano sostanzialmente nella natura e nelle finalità, ma proprio servono, diciamo fungono, diciamo proprio all'iscrizione della fondazione stessa al registro unico, che è quello che permette di usufruire anche di quelle che sono le agevolazioni per il fatto di essere iscritte al terzo settore. Sono state approvate dal Consiglio di amministrazione, che è quello della fondazione stessa, nella seduta del 12 gennaio 2022 e dal Consiglio direttivo del coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso del Piemonte, che è socio fondatore insieme alla Regione, che è stata, diciamo, un'approvazione avvenuta il 16 febbraio del 2022. Quindi quello che chiede e si chiede all'Aula è di approvare il nuovo testo dello statuto della Fondazione Centro per lo Studio e la Documentazione delle società di mutuo soccorso ONLUS di Torino. Ovviamente le modifiche non comportano oneri di spesa a carico della Regione. Grazie Presidente. Grazie, ringraziamo l'assessore Vittorio Appoggio per l'illustrazione, è aperta la discussione generale, chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire in discussione generale, non vedo mani alzate, quindi metto in votazione la proposta di legge numero 264. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiusa la votazione, il Consiglio approva la deliberazione numero 264. Passiamo ora al punto 4, proposta di legge numero 113, modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, numero 19, testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. Il provvedimento, già richiamato in aula ai sensi dell'articolo 37,4 del regolamento interno del Consigliere Domenico Rossi, numero il 19 luglio 2022 e rinviato in commissione il 25 ottobre 2022, è stato nuovamente richiamato in aula ai sensi dell'articolo 37,6 del regolamento interno dal Consigliere Rossi il primo marzo scorso, pertanto in quanto non ancora licenziato dalla commissione il provvedimento non ha relatori. Chiedo al collega Rossi se vuole illustrarlo, sì, le do la parola, prego collega per l'illustrazione. Grazie, grazie Presidente. Guardi, comincerei dal numero di questa PDL, è la PDL 113, Presidente. Quando, in questo momento, se non sbaglio, guardi, vado su Arianna per non sbagliarmi, siamo quasi al numero 300, sì, siamo al 247. Qui stiamo discutendo oggi, Presidente, una PDL, la numero 113, presentata in data 23 settembre 2020. Oggi siamo al 7 marzo, se non sbaglio, 2023, stiamo parlando di due anni e mezzo abbondanti, in cui un testo, lo voglio specificare, Presidente, perché forse non tutti i colleghi lo ricordano, un testo che si occupa della modifica al testo unico sulla tutela delle aree naturali della biodiversità, simile nei contenuti, a una proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da diversi comuni della provincia di Novara, che chiede, quella proposta di legge, le stesse cose che il sottoscritto chiedeva con questa proposta di legge. Allora, come mai noi qui oggi stiamo discutendo, Presidente, una proposta di legge, poi entrò nel merito, a distanza di quasi tre anni, perché su questa proposta di legge, sia il sottoscritto, insieme alle altre forze di minoranza, sia il territorio, abbiamo udito anche in quest'Aula i sindaci, una rappresentanza dei sindaci, che lo voglio sottolineare, Presidente, non sindaci di una parte politica, oltre al fatto che i sindaci sono sempre rappresentanti istituzionali, ma ci tengo a sottolinearlo, sindaci, espressioni anche della maggioranza di quest'Aula, hanno sottoscritto una proposta di legge simile a questa, negli stessi contenuti. Ebbene, siamo qui a discutere dopo tre anni, perché c'è stata da parte nostra la massima disponibilità a discutere e a trovare una mediazione sulle modifiche richieste, sulle quali, fra l'altro, ogni volta che c'è stato un confronto con la maggioranza, Presidente, il riscontro, il feedback è stato sempre quello di massima disponibilità e anche di condivisione di alcuni aspetti, poi spiegherò quali sono. Questo testo è stato discusso in Commissione, poi, visto che nonostante le varie interlocuzioni non si riusciva ad arrivare a una sintesi, è stato richiamato in Aula una prima volta. Arrivato in Aula io ho accettato di farlo tornare in Commissione, Presidente, perché c'è stata un'ennesima promessa di ragionamento condiviso e comune sulle proposte di legge, ma dopo diversi mesi in cui in Commissione il testo non è mai stato messo all'ordine del giorno, posso dire, usando un termine forse non adatto all'Aula, Presidente, che stufo di essere preso in giro, ho deciso di richiamarlo nuovamente in Aula, perché credo che a un certo punto, dopo circa tre anni, credo sia opportuno che il nodo qualcuno lo sciolga. Allora, io credo che noi come forze di opposizione, come firmatari di questa proposta di legge, abbiamo dimostrato in questi quasi tre anni forse anche un eccesso, come dire, di disponibilità al dialogo. E allora, a questo punto, noi vogliamo sapere che cosa ne pensa la maggioranza di quest'Aula, che cosa ne pensa la Giunta, su un testo che chiede due cose, Presidente. E lo voglio sottolineare ancora una volta, non le chiede Domenico Rossi, lo chiedono i sindaci dell'Ovesticino della provincia di Novara, che rappresentano non soltanto un punto di vista di una parte, ma anche di tutte le forze politiche che governano la regione in questo momento. Quindi il voto su questa proposta di legge è una risposta anche ai sindaci che l'aspettano da tre anni. Che cosa si chiede con questa proposta di legge, Presidente? Due cose molto semplici. La prima, che per quanto riguarda l'area, diciamo, del Ticino, si metta in discussione l'unione di diverse aree, che fu definita nella scorsa legislatura e che ha dimostrato nei fatti, come spesso accade, che non funziona e non porta beneficio al territorio. Quindi noi chiedevamo di, come dire, scorporare il vecchio parco del Ticino e di lavorare in un'ottica di un parco, diciamo, federato, avremmo potuto trovare insieme una soluzione con la Lombardia, perché l'area del Ticino, che è a cavallo tra il Piemonte e la Lombardia, è un'area unesco ed è un'area che è divisa dal punto di vista amministrativo, ma dal punto di vista naturalistico, dalla fruizione turistica, è la stessa cosa. Allora noi riteniamo, noi, quando dico noi, dico Domenico Rossi e i sindaci di quell'area, compresi quelli di centrodestra, che sia meglio per il territorio e per i cittadini che il parco del Ticino torni a essere autonomo e che si attivi un percorso che preveda una federazione con l'area amministrativa gestita dalla Lombardia, così da avere una fruizione unica, una gestione unica di quell'area. La seconda cosa che chiede questa legge è una revisione, Presidente, delle modalità di elezione degli organismi del parco. Perché questa legge chiede questo? Per motivo semplice, in questo momento la legge prevede, diciamo, una testa a un voto, al di là dell'estensione territoriale dell'ente rappresentato e della popolazione dell'ente rappresentato. Quindi che cosa è successo in passato, Presidente? Che magari alcuni comuni piccoli, dal punto di vista della rappresentanza della popolazione, e che nel parco magari avevano anche un'estensione poco significativa, mettendosi insieme hanno escluso magari comuni o enti che in quell'area erano più rappresentativi per territorio e per popolazione. Quindi noi con questa proposta di legge, di buonsenso, Presidente, chiedevamo, abbiamo anche detto più volte alla giunta e alla maggioranza, diteci voi, noi qua proponiamo un meccanismo, non vi piace il meccanismo che proponiamo noi, fateci una controproposta. L'importante è arrivare a un punto di equilibrio e di mediazione per cui chi, come dire, rappresenta una popolazione più ampia, ma soprattutto un territorio, un'estensione più ampia nel parco, non possa finire, diciamo, in minoranza perché o per insipienza dell'amministratore del momento che non si presenta alla riunione o perché qualcun altro si mette d'accordo. Sappiamo benissimo, Presidente, vado verso la conclusione, noi sappiamo benissimo che mentre la prima richiesta, cioè quella di ridefinire i confini del parco, è una richiesta politicamente significativa e importante, e quindi avremmo anche potuto comprendere che su questo aspetto ci fossero delle resistenze da parte della maggioranza, francamente, Presidente, non capiamo invece un irrigidimento o comunque vedremo adesso il comportamento della maggioranza sul secondo aspetto, cioè che è quello della modalità di elezione degli organismi, perché su questo io non vedo alcuna difficoltà di ordine politico, Presidente, tecnico, chiedo scusa, ma soltanto una mancanza di volontà politica a risolvere un problema che il territorio pone con forza e in maniera trasversale. Quindi io credo che dopo tre anni in cui il sottoscritto e il territorio aspettano una risposta, oggi questa risposta in un modo o nell'altro deve arrivare. Se sarà negativa, chiaramente sarà responsabilità della maggioranza che governa la Regione spiegare al territorio e ai sindaci che dopo tre anni non siamo stati in grado di trovare, non dico la forza di staccare il parco del Ticino dall'area più vasta, ma neanche di modificare le modalità di elezione e salvaguardare, lo dico soprattutto per i novaresi, Presidente, soprattutto le aree novaresi, perché sono quelle che rispetto al meccanismo attuale sono maggiormente penalizzate. Grazie. Grazie, ringraziamo il Presidente Domenico Rossi per l'illustrazione. Dichiaro aperta la discussione generale, non vedo nessuna mano alzata per la discussione generale, e quindi chiedo alla Giunta se intende intervenire. La Giunta... Prego, collega Gallo. Scusi, Presidente, capisco che alla maggioranza forse diamo fastidio che siamo in aula, ma il collega Rossi ha presentato non in ordine del giorno un emendamento, una proposta di legge. Io esigo che o i gruppi di maggioranza o la Giunta esprimano una valutazione sul testo, ci dicano le cose che vogliono modificare, insomma, si faccia una discussione. È mezzogiorno e venti, piuttosto sospendiamo adesso e ci rivediamo alle due, in modo che il Vice Presidente Carosso possa raccogliere informazioni dall'assessore Marnati, o, insomma, Carosso, e possa esprimere un giudizio. Grazie, ringrazio il collega Gallo per l'intervento, ha chiesto di intervenire l'assessore Carosso. Prego, collega. Grazie. Sì, no, solo per far presente che, come diceva il collega Rossi, effettivamente sono mesi, anni che ne parliamo e discutiamo di questa legge. Sappiamo benissimo la problematica che c'è stata appunto nel parco del Ticino, quando ai tempi dell'elezione dei membri dell'area protetta, i consiglieri di quel territorio non erano presenti, quindi va detto che la problematica è nata dal fatto che non erano presenti, giusto perché l'Aula sappia di cosa stiamo parlando, quindi quando c'era l'elezione, una determinata area, diciamo così, di territorio, non erano presenti, automaticamente sono stati eletti, tra gli eletti, quelli che erano presenti, quindi altre aree, dimenticando una grande fetta del Novarese. Questo probabilmente magari non succede mai più, come si dice, perché potrebbe essere che tutte le volte che fai un'elezione dimentichiamo qualcuno, giustamente il consigliero Rossi dice, bisogna porre il rimedio, quindi se è un'area così importante, dovrebbe avere sempre il diritto di avere un membro all'interno. Bene, non è stato inascoltato questo, tant'è che noi stiamo lavorando sia alla modifica di questa legge, sia alla modifica dei parchi inteso per allargamento e anche riduzione, piccole modifiche, io lo definite tali, e tutti i presidenti dei parchi piemontesi sono al corrente di questa situazione ormai da settembre. Stiamo raccogliendo le ultime istanze, proprio perché puntualmente bisogna andare a fare modifiche. Parlo di picche modifiche vuol dire che magari c'è un'area contigua che non confinava con una strada, da qualcun altro che invece vuole allargare il parco che comuni vogliono inserire, e nello stesso tempo dobbiamo regolamentare questa situazione. Mi trovo d'accordo su questo territorio, giustamente, ho fatto presente, non è una questione di forze politiche perché i sindaci del territorio sono di diverse aree, ma è una questione di rappresentatività all'interno dell'ente. Nello stesso tempo so che abbiamo visto, c'è un'altra PDL del collega Gagliasso, che è il primo firmatario, che va ad operare più o meno nella stessa direzione, poi c'è anche l'altra proposta dei sindaci, noi vorremmo fare sintesi per poter radunare e fare tutto questo. Credo che si vorrà ancora qualche settimana, ma non molto, perché alcune aree protette stanno ancora definendo alcune situazioni, per cui io avrei voluto chiudere la legge entro fine anno, ma giustamente i territori mi hanno chiesto qualche tempo in più per definire alcune situazioni. Per cui, questo era quello che volevo piacere di raccontare, di dire che non è che siamo stati troppo fermi. Effettivamente, io ho spinto sui territori, ne abbiamo parlato più di una volta, credo che sia assolutamente giusto e corretto dare la rappresentatività territoriale e credo che ci siano anche però da mettere a punto alcune situazioni che non sono solo quelle del confine o della rappresentanza, ma di tutto quello che sono le aree nostre, l'area parco e quello che sono interessanti come territori. Per cui faremo una sintesi per fare una legge unica. Vediamo un attimino cosa dicono i colleghi, credo che i capigruppo adesso vorranno fare qualche intervento. Per noi, ecco, questa era la ragione di dare una spiegazione a quanto detto. Grazie. Grazie, ringraziamo l'assessore Carosso per l'intervento. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolato. articolo 1, non ci sono emendamenti, chiedo se qualcuno vuole intervenire, si ha chiesto di intervenire il collega Rossi, prego collega nella facoltà. Grazie Presidente. No, solo per dire che quando arriverà a mettere in votazione l'articolo 1 chiedo la votazione per appello nominale, grazie. Grazie collega, non ci sono altre richieste ad intervenire, quindi metto in votazione l'articolo 1 ad appello nominale. 22 22 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Chiudo la votazione. Articolo 2 respinto. Ha chiesto di intervenire il collega Rossi, pregone alla facoltà. Grazie Presidente. Solo per chiederle una specifica. Sono tutte per appello nominale? Perché altrimenti chiedo che tutti siano... Ah, tutte. Sono tutte per appello nominale. Grazie Presidente. Metto ora in votazione l'articolo 3. Non ci sono emendamenti, nessuno vuole intervenire. Metto in votazione. Grazie a tutti. 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 Quindi la proposta di legge regionale 23 settembre 2020 numero 113 è respinta dall'Aula. Passiamo ora al punto 5, proposta di legge di iniziativa degli enti locali numero 133, modifiche della legge regionale 29 giugno 2009, numero 19, testo unico sulla tutela delle aree della... scusate. delle aree naturali della biodiversità, introduzione possibilità costruzione parchi interregionali, modifiche degli enti gestori delle aree protette regionali, redefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad una preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni. Il provvedimento è stato iscritto ai sensi dell'articolo 76 dello statuto, non avendo la Commissione terminato l'esame entro i tre mesi successivi all'assegnazione, così come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo, pertanto in quanto non licenziato dalla Commissione il provvedimento non ha relatori. Dichiaro aperta la discussione generale, chiede di intervenire nella discussione generale il Presidente Alberto Preioni. Prego collega nella facoltà. Grazie Presidente. I temi sono gli stessi e lo stesso della discussione di prima. C'è questa volontà della Giunta con questo provvedimento del Vice Presidente Carosso. C'è una proposta al vaglio degli uffici del Consigliere Gagliasso che appunto parla di una definizione più generale rispetto alla normativa per la disegnazione delle nomine dei parchi e quindi questo è un impegno che ci prendiamo, che prendiamo in quest'Aula. Non vogliamo andare assolutamente contro i sindaci, benché hanno sbagliato all'epoca a non recarsi in assemblea. Poi è giusto che i territori vengano riconosciuti. In base al territorio lo riteniamo giusto e sacrosanto che ci sia una designazione che tenda a conto anche del territorio. E nelle nostre proposte di legge sicuramente si va anche in questo senso. Penso che dopo la discussione generale vi anticipo che abbiamo presentato un ordine del giorno che va di fatto a passare questa votazione di questa proposta di legge perché a seguito del regolamento richiederemo quindi la votazione dell'ordine del giorno che bypassa la votazione dell'articolato del punto in corso perché appunto è già stata bocciata la proposta Rossi. Grazie. Grazie. Ringraziamo per l'intervento il Presidente Prioni. Ha chiesto di intervenire in discussione generale il collega Rossi. Prego collega nella facoltà. Grazie Presidente. Colgo l'occasione solo per un commento anche rispetto alle parole dell'assessore Carosso. Ma guardi, prendiamo atto che c'è l'ennesimo impegno che io ascolto da tre anni oramai a intervenire non fra l'altro sulla questione che avrebbe richiesto effettivamente un lungo lavoro, cioè la ridefinizione dei confini del parco, perché quello capisco che sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista delle conseguenze di tipo economico-amministrativo si sarebbe, come dire, configurato come un intervento importante. Cioè, prendiamo atto del fatto che dopo tre anni c'è un impegno a lavorare sull'aspetto, diciamo, quello che non voglio dire che in sei mesi avremmo potuto chiudere, possiamo dire in un anno, cioè l'aspetto del meccanismo elettorale. E con qualche aggiustamento invece sulle aree solo di natura limitrofa. Quindi, per quanto riguarda la richiesta del territorio e che il parco del Ticino torni a essere autonomo e guardi alla collaborazione con la Lombardia per una gestione condivisa, questa risposta oggi è già arrivata, cioè questo non ci sarà e non è intenzione di questa giunta e di questa maggioranza lavorare in questa direzione. Quindi, prendiamo atto che dopo tre anni c'è un'apertura a ridefinire la questione elettorale, sperando che effettivamente tutta una legislatura sia sufficiente a metterci nella condizione di tutelare le aree maggiormente rappresentative. E' chiaro che questo voto è un voto che, ripeto, non tiene conto di una volontà condivisa, politica, trasversale di un territorio importante. E dal mio punto di vista, mi permetto di aggiungere, non è stato affrontato, Presidente, con la dovuta profondità che il tema avrebbe meritato. E quindi oggi siamo a questo punto perché non è stata messa tra le priorità. Questo mi sento di dirlo e mi dispiace, fra l'altro, di questo perché l'esito avrebbe potuto essere anche lo stesso. Ma credo che l'approccio e anche la serietà con cui prendere in considerazione la richiesta poteva essere diverso. Questo è un mio punto di vista personale, che mi sento di dire nella maniera più educata possibile. Però è un tema serio, importante, che per quella fascia di territorio significa possibilità di sviluppo, possibilità di fruizione del parco da parte dei cittadini, ma anche sviluppo turistico, economico. In questo momento le difficoltà non mancano e una rivisitazione avrebbe certamente aiutato il territorio. Prendiamo atto che questa è la risposta e ognuno risponderà, come dire, sui territori delle scelte politiche. Grazie. Grazie. Ringraziamo il collega Rossi per l'intervento. Passiamo ora all'ordine del giorno in oggetto non passare... Chiudo la discussione generale e passiamo ora all'ordine del giorno. Voleva intervenire, collega Perugini? Prego, nell'ordine del giorno. Prego, scusi, in discussione generale. Sì, grazie Presidente. Un breve intervento, ma credo doveroso, perché posso confermare che dal punto di vista del territorio, i rappresentanti del territorio navarese non sono distratti. Abbiamo anche noi ascoltato e letto con attenzione, ascoltato i sindaci, abbiamo anche audito le parti in commissione e la proposta di legge che arriva dai comuni attraverso una serie di ordini del giorno che sono stati approvati, sì, dai consigli comunali di territorio, e peraltro in modo trasversale è, come sappiamo, anche all'ordine del giorno di oggi. Ma proprio sulla scorta dell'impegno della Giunta e del percorso che si sta avviando al traguardo, è forse necessario, e lo ha detto poco fa il Presidente Preioni, che anche quella proposta di legge venga considerata per avere poi un testo che davvero tenga conto di tutte le necessità e le esigenze, che saranno innanzitutto quelle della rappresentanza che è venuta meno, ma non dimentichiamo che in questo momento l'organo amministrativo ente Parco del Ticino è in esercizio, in funzione ed è rappresentato e peraltro, come credo il Vice Presidente Carosso possa confermare, è poi l'Assemblea dei Sindaci che ha validato la rappresentanza dell'organo amministrativo in funzione e quindi c'è di fatto un sigillo di territorio. Detto questo però, per essere concreti e per non vanificare né il voto di poco fa e nemmeno il dibattito breve che facciamo in discussione generale, chiudo con queste considerazioni. La prima, fiducia in quello che accadrà, perché con l'ordine del giorno che andremo a discutere e a votare tra poco, vuole dire considerare la proposta dei sindaci e cercare di arrivare a un testo che sia la sintesi effettiva dopo che il territorio è stato ascoltato da parte dell'amministrazione. B, con la proposta di legge che questa maggioranza, prima firma del collega Gagliasso, sta presentando, anche questa diventi parte di quella sintesi che è necessaria per rispondere alla rappresentanza e perché no, aggiungo a quella visione che non è vero che è stata esclusa, di immaginare magari collaborazione tra i parchi perché non stanno in un confine amministrativo ma stanno in un confine naturale, però è anche altrettanto vero e questa è l'occasione per dirlo, visto che qualche giorno fa in Commissione Autonomia abbiamo avuto una serie di maggiori informazioni rispetto al percorso dell'autonomia da parte del Ministro Calderoli, io mi permetto di dire forse se anche le minoranze, anche al Governo centrale, daranno una mano perché questa autonomia traguarda in fretta, immaginate quanto sarà più concreto il dialogo tra Piemonte e Lombardia per mettere al centro il territorio dell'ente parco del Ticino, da una sponda all'altra del Ticino e quanto sarà più concreta la sintesi in quel momento. Quindi diamo una mano perché cambi il paradigma, diamo una mano perché diventi più moderno il sistema Paese e forse anche un dibattito come questo, una giornata di riunione come questa diventa davvero più semplice, più sintetica e arriviamo al punto più facilmente rispondendo alle esigenze dei territori, del turismo, dell'ambiente e dei nostri concittadini. Grazie, Presidente. Grazie, ringraziamo il collega Perugini per l'intervento in discussione generale, non vedo più mani alzate quindi chiudo la discussione generale. Passiamo ora all'ordine del giorno, del non passaggio agli articoli della proposta di legge numero 133, modifiche della legge regionale 29 giugno 2009 numero 19, testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. L'introduzione, possibilità, costituzione, parchi interregionali, modifiche agli enti di gestione delle aree protette regionali, ridifinazione, modalità di nomina di componenti del Consiglio degli enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad una preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni. Ha chiesto di intervenire il collega Rossi, prego collega. Chiedo scusa, Presidente, lei lo ha letto perché non è stato caricato l'ordine del giorno? Lo stanno caricando, io tanto l'ho letto così almeno. Ho letto l'oggetto, chiaramente c'è la pagina, un attimo e lo carico. Quindi aspettiamo di poterlo vedere? No, guarda, adesso lo mettiamo in... se vuole posso anche... Credo che i colleghi debbano poterlo visionare prima di votare, Presidente. Credo sia doveroso. Doveroso. Va bene, sospendo cinque minuti, ci prendiamo cinque minuti alle 12.50, riprendiamo. Grazie. 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 Ali, riappriamo la seduta. È stato caricato l'ordine del giorno. Chiedo se ci sono interventi in merito. ha chiesto di intervenire, tranquillo collega, inizio ad anticipare il suo intervento, quindi ha chiesto di intervenire sull'ordine del giorno il collega Rossi. Prego collega nella facoltà. Presidente, c'è un Presidente, capisco la sua fretta, ha avuto tre anni per accelerare, adesso porti un po' di pazienza anche lei, noi abbiamo aspettato tre anni, lei aspetta cinque minuti, non succede niente. Stavo guardando il testo, Presidente Gavazza, e mi sarei aspettato, invece vedo che è un ordine del giorno tecnico, mi stupisce anche che, e mi congratulo anche col Presidente Preioni di conoscere anche queste finezze, e di fatto, lo dico per i colleghi, è un ordine del giorno che chiede, ve lo leggo, ve lo dico per i colleghi, il non passaggio agli articoli della proposta 133. Cioè che cosa vuol dire? che noi non voteremo, lasciatemelo dire furbescamente, non voteranno contro la proposta di iniziativa popolare. Ma guardate, tanto il voto che avete fatto con la proposta precedente, che era una proposta di fatto identica a questa, e il fatto che anche questa proposta, come dire, in tre anni non abbia ricevuto una risposta affermativa, è il fatto che anche questa proposta, anche se non la voterete, di fatto non viene approvata, non cancella il fatto che vi state esprimendo in maniera contraria. Lo avete fatto prima con il silenzio di questi tre anni, lo state facendo oggi, avendo bocciato la proposta di legge a prima firma Rossi, e lo state facendo anche adesso, anche se chiedete il non passaggio agli articoli, il risultato politico è lo stesso, siete contrari e dopo tre anni quello che siete riusciti a partorire è un no, non ci interessa. Questo resta, resta come dato politico e anche quest'ordine del giorno invece non cancella questa pura e semplice verità. Grazie. Chiedo se ci sono altri che vogliono intervenire, non vedo mani alzate, quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno. 22. Sì, il numero legale è sempre 22. 19. ci sono Grazie. 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 Grazie a tutti e a tutte. Grazie. 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 Buongiorno a tutti e a tutte. E su incarico del Presidente Stefano Allasia dichiaro aperta la seduta dell'interrogazione a risposta immediata. In merito allo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata come recita l'articolo 100 del regolamento, oggi si provvederà a rispondere come segue. All'interrogazione a risposta immediata numero 1323 presentata dalla Presidente Francesca Frediani, 1324 presentata dalla Presidente Sara Di Sabato, 1325 presentata dal Presidente Raffaele Gallo e 1326 presentata dal Consigliere Maurizio Marello risponderà l'Assessore Maurizio Marrone. All'interrogazione a risposta immediata numero 1320 presentata dalla Presidente Sara Di Sabato, la numero 1322 presentata dal Presidente Silvio Magliano, la numero 1327 presentata dal Consigliere Alberto Avetta, la 1328 presentata dalla Presidente Silvana Cossato e la 1329 presentata dal Presidente Bertola rispondendo. All'interrogazione a risposta immediata risposta immediata numero 1330 presentata dal Presidente Paolo Ruzzola si risponderà fornendo risposta scritta come richiesto dall'interrogante. Ricordo agli assessori che rispondono alle interrogazioni di disporre l'invio via mail delle risposte scritte agli interroganti e all'ufficio d'aula. Ricordo agli interroganti che nel resocondo della seduta che viene trasmesso via mail in visione a tutti i consiglieri intervenuti dall'ufficio reso contazione prima della pubblicazione e poi pubblicato integralmente in banca dati, è reperibile la trascrizione integrale di tutti gli interventi sia degli interroganti che degli assessori che rispondono. Ricordo che l'interrogante ha a disposizione tre minuti per l'illustrazione mentre il componente della giunta ha a disposizione cinque minuti per la risposta e non sono previste repliche. Prego fin d'ora i consiglieri e gli assessori di attenersi rigorosamente ai tempi. Iniziamo i lavori con l'esame dell'interrogazione a risposta immediata numero 1323 presentata dalla Presidente Francesca Frediani avente ad oggetto. Buono domiciliarità? La giunta intende rimuovere il limite attualmente previsto per l'assegnazione ai conviventi non autosufficienti? Ha chiesto di illustrare l'interrogazione la Presidente Francesca Frediani. Prego collegane alla facoltà per tre minuti. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Non sto ovviamente ad illustrarle la misura di cui immagino sia promotore, denominata per l'appunto buono domiciliarità, rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari, che consiste per l'appunto in un contributo a beneficio di persone non autosufficienti residenti in Piemonte. Parliamo di un contributo mensile nel valore di 600 euro. Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni, perché ovviamente non era così chiaro nei cittadini che volevano accedere a questa misura, segnalazioni rispetto alla possibilità di accedere a questa misura da parte di due persone non autosufficienti che vivono nello stesso nucleo familiare. Cioè pare che, cioè pare in realtà l'ho letto, nell'avviso di attuazione della misura, si definisce che è ammissibile la presentazione di un unico contratto in carico correlato a più persone non autosufficienti purché conviventi. E in questo caso è prevista l'assegnazione di un unico buono. Quindi si tratta ovviamente di un aiuto per le famiglie che consente di sostenere delle spese che altrimenti sarebbero difficilmente sostenibili, perché sappiamo che il costo di una persona che presta assistenza domiciliare è un costo piuttosto elevato. Immaginiamo poi qualora fossero due le persone ad aver bisogno di assistenza domiciliare il peso diventerebbe, diventa anzi decisamente insostenibile per le famiglie. Sappiamo che ci sono altri sussidi, altri buoni bonus, chiamiamoli così, non so come definirli, comunque altre forme di sostegno per le famiglie. Però ci chiedevamo e chiediamo attraverso questa interrogazione se si intenda in futuro potenziare questa misura per far sì che due persone non autosufficienti che si ritrovano ad essere conviventi e quindi si trovano nello stesso nucleo familiare possano entrambe aver diritto all'erogazione del bonus. In pratica se si tratta di una limitazione che è dovuta alla carenza o mancanza o insufficienza di risorse e se si desideri in questo caso colmarla in futuro oppure se ci sia qualche motivazione che ha portato a prendere questa decisione proprio perché magari ci sono altre misure di cui si può usufruire. Grazie. Grazie. Ringraziamo la Presidente Francesca Frediani per l'istruzione e la Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Maurizio Marrone. Prego, assessore, nella facoltà per cinque minuti. Grazie, Presidente. Come veniva ricordato l'interrogazione, la Regione Piemonte attiva risorse aggiuntive utilizzando fondi del Fondo Sociale Europeo nel campo della domiciliarità che si vanno a sommare a fondi e agli interventi già in essere sul territorio. Come diceva anche l'interrogante, in particolare ci riferiamo alla possibilità di sommare l'importo del voucher a quelli che sono i servizi direttamente o indirettamente già erogati anche dai servizi socioassistenziali del territorio, quindi del comune di residenza o del consorzio operativo sul territorio di residenza. In questo senso non si può non riconoscere un aspetto positivo nel percorso seguito in quanto consente di venire incontro a migliaia di famiglie piemontesi che fino ad oggi erano escluse da qualunque tipo di sostegno. È evidente che il contributo regionale non possa coprire interamente i costi sostenuti da ciascuna famiglia, ma si tratta comunque di un importo mensile significativo e soprattutto prolungato nel tempo, in grado di offrire un certo respiro nel medio periodo. Per venire la questione di dettaglio segnalata dall'interrogante, il vincolo opposto prevede l'erogazione di un singolo buono nel caso vi sia un unico contratto di lavoro con un assistente familiare, seppure ci si trovi in presenza di più soggetti non autosufficienti conviventi, vincolo che non si applica nel caso in cui non sussissa la convivenza. Si tratta di una situazione particolare che riguarda un numero molto ridotto di situazioni, come stiamo verificando dall'analisi attraverso CSI delle domande pervenute finora. Questo vincolo, sottolineo però, non sussiste qualora nel caso di situazioni molto gravi di due persone non autosufficienti conviventi, che è il caso che poneva anche lei nell'interrogazione, ci si trovi però in presenza di due contratti di lavoro aventi le caratteristiche richieste, quindi almeno 16 ore settimanali di lavoro cada uno. Questo per dire che cosa? Che il problema non è tanto che si possa usufruire di un unico buono per due utenti, per due persone assistite, ma per un unico buono, per un unico contratto con quel monteone, perché è lo standard che la Commissione europea ci ha messo rispetto a quello che viene considerato il monte ore minimo di fabbisogno di una persona non autosufficiente. Questo per dire che cosa? Che questo vincolo non sussiste qualora nel caso di situazioni molto... Ah beh, questo l'ho già detto, molto gravi di due persone... Ci si trovi in presenza di due contratti, quindi vuol dire che se si attivano due contratti e quindi si va su 16 ore più 16 ore, allora si può fare domanda per due bonus a nome di ciascuna persona. In realtà questo poi è legato al fatto della rendicontazione, nel senso che in caso contrario emergerebbe sostanzialmente un doppio voucher su un monte ore di 16 ore pari a chi ne prende solo uno. Quindi questo è il tema. Sulle risorse, e questo per spiegare che non è un tema di risorse, ne approfitto per fare anche questa precisazione, sicuramente noi andremo a rifinanziare la misura, perché abbiamo previsto di due anni, proprio rispetto al fatto di, e abbiamo preceduto rinnovabili, di andarla a rifinanziare sulla continuità, pensiamo soprattutto ai casi di domiciliarità, visto che sappiamo che è in noi nella residenzialità la durata della vita, soprattutto in caso geriatrico, è purtroppo più bassa, però quella di garantire la continuità assistenziale del godimento della misura anche oltre 24 mesi per chi mantiene gli stessi requisiti e poi anche per chiaramente provare ad ampliarlo anche ad altre fattispecie non solo legate come attualmente a quello della contrattualizzazione della figura professionale, perché in un passaggio che ho visto anche nella interrogazione, purtroppo l'Europa ci ha messo dei vincoli rispetto ai caregiver familiari, che però sappiamo essere, soprattutto in un periodo di crisi come questa, una leva importante in termini anche proprio statistici, quantitativi, dell'assistenza domiciliare del nostro territorio, su cui quindi ci sforziamo per cercare di ampliare il ventaglio dell'utilizzo del voucher stesso. Grazie, ringraziamo l'assessore Maurizio Marrone per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame di rientrazione risposta immediata numero 1324, presentato dalla Presidente Sara Di Sabato, avente ad oggetto. Quale futuro per il centro di produzione RAI di Torino e per i e le dipendenti che lavorano nel suo interno? Ha chiesto di illustrare l'interrogazione la Presidente Sara Di Sabato. Prego collega nella facoltà per tre minuti. Grazie Presidente, le radici della tradizione radiotelevisiva e della ricerca tecnologica a questa associata trovano sede naturale nella città di Torino e nel Piemonte, infatti il capologo piemontese ne è protagonista dal 1896 grazie ad una filiera altamente specializzata. Tra l'altro il centro di produzione RAI di Torino è uno dei quattro centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI, insieme a quelli di Roma, Milano e Napoli. Questo centro occupa lavoratori e lavoratrici di alta professionalità per tutti quei settori necessari a sviluppare e supportare la produzione di prodotti televisivi e diverse altre migliaia in un indotto che risiede ed opera in tutto il territorio regionale. Come ben noto non vi è un piano industriale dell'azienda e non si conosce come il centro produzione RAI di Torino sia coinvolto all'interno di questo piano. Si rileva infatti la necessità e l'urgenza di una prospettiva che coinvolga questo centro dal punto di vista immobiliare degli investimenti sull'innovazione tecnologica dalla produzione al personale. Il centro infatti dispone di spazi sottoutilizzati e tecnologie all'avanguardia necessarie alla produzione televisiva o a possibili specializzazioni. Quello che succede oggi, ovviamente ne siamo venuti a conoscenza con un'interlocuzione attraverso chi opera in questo centro, sono diverse criticità che ci portano a pensare che durante gli anni il centro sia stato sottodimensionato in termini di risorse e ovviamente anche di personale. Infatti sarebbe necessario avere la garanzia in termini di pieno utilizzo degli studi di Via Verde attualmente inutilizzati. Nel 2022 tra l'altro i lavoratori del centro di produzione televisiva di Torino hanno dovuto recarsi in trasferta a Milano e a Roma per lunghi periodi per realizzare programmi in appalto. E questo ovviamente ci verrebbe da chiedere a quali costi per ovviamente il servizio. Visto che è considerato che sono dei programmi che potrebbero vedere luogo sul territorio torinese o piemontese, ci chiediamo perché i dipendenti presenti nel centro di produzione di Torino vengano mandati in altre regioni per poter appunto portare a compimento l'esecuzione e ovviamente la ripresa di questi programmi. L'attuale organico RAI a Torino si aggira nel complesso intorno alle mille unità a cui ci sono da aggiungere 200 dipendenti di RAI Pubblicità e il personale di RAI Way, quindi sono circa 1200. E negli anni, come dicevamo prima, si è vista una forte riduzione del personale a seguito dei pensionamenti e quindi sarebbe stato necessario un reintegro anche per non veder perse quelle competenze, soprattutto a seguito del personale andato in pensione. Questo non succede quando il personale ovviamente non viene reintegrato in modo repentino ed urgente. Ci sono tante altre richieste, sollecitazioni che ci sono state fatte, però a noi a questo punto viene naturale porre una domanda. Chiaro che ci troviamo di fronte al rischio concreto di perdere o comunque di vedere sottodimensionata una che è l'eccellenza del territorio torinese e piemontese ed è un servizio che dà lavoro a tantissime famiglie, a tantissimi professionisti ultraqualificati e che ovviamente rappresenta un'eccellenza per il nostro territorio. Quello che noi vorremmo scongiurare è che questo importante centro di produzione migri o comunque venga depotenziato al punto tale di diventare presente soltanto nelle altre regioni e quindi perdere per il Piemonte un'importante opportunità. A questo punto riteniamo doveroso interloquire con la Giunta e col Presidente per sapere se si intendano mettere in campo azioni volte ed evitare il ridimensionamento dei servizi connessi alla produzione televisiva e radiofonica del centro RAE di Torino, evitando così la conseguente migrazione degli stessi verso altre regioni. Io credo che questa sia una domanda lecita da fare alla Giunta per tutelare un servizio e ovviamente le famiglie che operano sul nostro territorio. Grazie. Grazie. Ringraziamo la Presidente Sara di Sabato per illustrazione. La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Maurizio Marrone. Prego, assessore, nella facoltà per cinque minuti. Grazie, Presidente. Leggerò una nota che ci ha fatta pervenire dall'assessore Elena Chiorino per l'assessorato al lavoro. De rispondere all'interrogazione del consigliere di Sabato, che ringrazio, confermo che siamo consapevoli di come Torino abbia alle spalle una tradizione importante nel campo della ricerca, della sperimentazione tecnologica e radio-televisiva e soprattutto di quanto il centro ricerca e innovazione tecnologica RAE sia unico a livello nazionale. Pertanto confermo che ci muoveremo nell'ottica di tutelare i lavoratori ed il patrimonio che il centro rappresenta per la nostra regione. Ringraziamo l'assessore Maurizio Marrone per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione risposta immediata numero 1326 presentata dal consigliere Maurizio Marello avente ad oggetto «Crisi del gruppo Egea di Alba, la regione vigili, c'è un territorio da tutelare». Ha chiesto di illustrare l'interrogazione il consigliere Maurizio Marello. Prego collega, ne ha la facoltà per tre minuti. Grazie Presidente, do in sintesi lettura dell'interrogazione. In premessa dicendo che Egea è un'azienda multiservizi che è nata e cresciuta ad Alba e che all'inizio degli anni Ottanta ha avviato un articolato progetto di sviluppo partendo dalla distribuzione del gas metano nei comuni di Langa e Roero. Nel 1986 inaugura il suo primo impianto di teleriscaldamento a servizio della città di Alba e inizia ad occuparsi anche di raccolta di rifiuti e gestione del ciclo idrico integrato. Nel 1997 diventa una multi-utility a capitale misto pubblico privato grazie all'ingresso nella propria compagine societaria di numerosi comuni del territorio. Un ulteriore momento di crescita è iniziato nel 2000 grazie alla liberalizzazione del mercato energetico attraverso la partecipata Egea commerciale che espande i propri servizi negli anni in tutto il Piemonte, in Liguria, in Lombardia e anche in altre regioni d'Italia. Successivamente, negli anni, il gruppo ha investito nell'ambito della sostenibilità realizzando impianti a biogasi, idroelettrici, fotovoltaici, ecc. Nel 2021, secondo i dati riportati nel bilancio di sostenibilità pubblicato dall'azienda i clienti gestiti per quanto riguarda l'energia elettrica e il gaso sono oltre 280.000 con 423 milioni di metri cubi di gas venduto e 5.400 gigawattora di energia elettrica venduta. La rete Egea di teleriscaldamento complessivamente raggiunge 150 chilometri e è insediata in diversi comuni anche importanti del Piemonte e sono i cittadini serviti da questo gruppo complessivamente e dai servizi di questo gruppo sono in circa 258 comuni. Parliamo di un'azienda che ha oltre 1.100 collaboratori, 100 soci pubblici comuni per lo più e 150 privati con la famiglia Carini che detiene il 60% della proprietà. Ecco, con questa premessa si rileva che negli giorni scorsi sono apparsi sulla stampa nazionale locale alcuni articoli in cui si evidenzia il delicato momento di crisi economico-finanziaria e di liquidità che il gruppo sta attraversando anche a causa della recente crisi energetica. Secondo quanto riportato appunto dagli organi di stampa, in base ai dati ufficiali, al 31-12-2022 il debito verso i fornitori ammonterebbe a poco più di 101 milioni di euro a cui vanno aggiunti debiti tributari per circa 107 milioni di euro e poi ci sono crediti nei confronti dei fornitori per circa 330 milioni di euro. A fronte di questa preoccupante situazione i vertici del gruppo, proprio nei giorni scorsi, auditi dalla terza commissione in comune ad Alba, che ha una partecipazione del 5,3%, hanno asserito che stanno cercando di ottenere un finanziamento di 70 milioni da un pool di banche e che ci sarebbe l'interessamento da parte del colosso lombardo A2A, pater industriale, per l'acquisizione anche eventualmente della maggioranza del gruppo. Successivamente, proprio qualche giorno fa, la stessa Irene, partecipata dal comune di Torino, ha manifestato anche pubblicamente l'interesse in questa direzione. Ora, ecco le ragioni dell'interrogazione, stanno in questo, questo quadro molto delicato, un'azienda radicata sul territorio piemontese che da lavoro, dicevo, ha quasi 1300 dipendenti, che gestisce servizi di rilevanza pubblica, soprattutto nel sud della nostra regione, che implica un di più di trasparenza, a mio parere, proprio perché, ferme restando le regole di riservatezza legate alle quotazioni in borsa di A2A e di Irene, ci sono in ballo 103 comuni, tante comunità, tanti utenti, cittadini e imprenditori locali che hanno investito in questa azienda. Quindi, con l'interrogazione, rivolgendomi al Presidente della Giunta regionale, chiedo alla Regione, appunto, di vigilare, al fine che in tutto questo processo siano garantiti i livelli occupazionali e siano preservati gli investimenti e i servizi che EGEA rende, appunto, ai cittadini e alle imprese del Piemonte. Grazie. Grazie. Ringraziamo il Consigliere Marello per l'illustrazione. La Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Maurizio Marrone. Prego, collegane alla facoltà per cinque minuti. Anche qui leggo una nota che è pervenuta dall'assessore Chiorino, che risponde. In merito a question time in oggetto, l'assessorato monitora la situazione. Ad oggi non vi sono in corso né procedure di licenziamento né di cassa integrazione e soprattutto non risultano pervenute note segnalazioni da parte dei sindacati. Questa fase, sempre ad oggi, si declina in un contesto di programmazione industriale, pertanto, qualora il mio assessorato mi sarà coinvolto sul piano occupazionale, confermo fin d'ora la massima attenzione per quanto riguarda il mantenimento dell'occupazione. Grazie, ringraziamo l'assessore Maurizio Marrone per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame di direzione risposta immediata numero 1320 presentata dalla Presidente Sara Di Sabato. Scusate, ne ho saltata una. Ecco, mi scuso, l'avevo messa prima, ma abbiamo ancora il Presidente Gallo. Quindi continuiamo i lavori con l'esame di ridurazione risposta immediata numero 1325 presentata dal Presidente Raffaele Gallo a venta d'oggetto. Nuove strutture spedaliere, il mutuo per i progetti preliminari è operativo? Ha chiesto di illustrare l'interrogazione il Presidente Raffaele Gallo. Prego, collega, nella facoltà per tre minuti. Grazie, Presidente. Con questa interrogazione a risposta immediata torniamo su un tema sul quale il Consiglio regionale ha dibattuto molto in sede di assestamento di bilancio e cioè il finanziamento dei progetti preliminari o dei progetti definitivi dei vari ospedali che sulla carta sono stati individuati già da qualche tempo, quasi un anno e mezzo ma che ad oggi non vedono ancora la luce. Come sappiamo il dibattito è stato ampio a novembre del 2022 nel momento nel quale appunto si annunciavano i primi progetti degli ospedali ricordo Savigliano, ricordo Cuneo e via via gli altri progetti per esempio a Vercelli. Recentemente, nelle ultime settimane, è stata individuata l'area anche per il Maria Vittoria di Torino. Ma tutti questi ospedali, questi progetti, questi ospedali sono finanziati con le risorse INAIL alle quali si può accedere solo nel momento in cui si ha il progetto definitivo da presentare e quindi è nato il dibattito per capire dove erano le risorse per finanziare i progetti diciamo preliminari e fino ad arrivare al definitivo e quindi accedere ai finanziamenti INAIL. In quella sede, in quella discussione anche su sollecitazioni delle forze di opposizione tutte è stato inserito l'articolo 18 della legge quindi della legge di assessamento la 18 del 2022 che autorizzava la giunta regionale a contrarre un mutuo per l'importo non superiore a euro 30 milioni per una durata massima di 10 anni ad uno spredo non superiore a quello applicato per la medesima tipologia di contratti dalla Cassa Repositi e Prestiti SPA. Successivamente in approfondimenti specifici in Commissione Sanità anche con l'assessore Tronzano si è capito meglio però che i singoli progetti dovevano essere finanziati dalle singole ASD che potevano poi accedere a questo diciamo mutuo di salvataggio messo in pista dalla giunta solo nel caso in cui non avessero avuto le risorse proprie per finanziare i progetti siccome sappiamo tutti la situazione dei bilanci delle ASD conosciamo la situazione dei bilanci della sanità in generale era come dire quantomeno curioso rimandare alle risorse delle ASD diciamo la possibilità di finanziare i progetti ma comunque verificata la finanziabilità delle ASD qualora non avessero avuto le risorse potevano accedere ai 30 milioni di mutuo in quella fase di discussione noi c'eravamo preoccupati del fatto che però per accendere un mutuo metterlo in campo renderlo pienamente operativo ci sarebbero voluti molti mesi e quindi si rischiava di slittare molto in avanti diciamo l'avvio delle procedure per i progetti preliminari ho terminato presidente solo per dire che sempre in quella discussione invece personalmente ero stato ripreso ed arguito sul fatto che in poche settimane sarebbe stato operativo il finanziamento di 30 milioni messo a disposizione delle ASD che comunque potevano partire a prescindere dal finanziamento perché dovevano utilizzare le proprie risorse di bilancio allora ad oggi a distanza di 5 mesi ci chiediamo anche alla luce devo dire della diciamo dell'individuazione dell'area del nuovo Maria Vittoria dell'inizio della discussione in Consiglio Comunale a Torino se ricordo bene domani in Consiglio in Commissione se questo risorso questo finanziamento è stato acceso è disponibile è utilizzabile dall'ASD ma da tutte le ASD interessate o se siamo ancora in attesa di definire il contratto con un istituto di credito grazie grazie ringraziamo il collega Gallo per l'ustrazione la giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando l'assessore Maurizio Marrone prego assessore nella facoltà per 5 minuti grazie presidente ci scrive una nota l'assessore Tronzano che precisa quanto segue a fronte dell'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 18 della legge regionale numero 18 del 2022 è stata inizialmente avviata la domanda di finanziamento inviata dalla direzione risorse finanziarie e patrimonio a cassa deposite per STSPA tuttavia al fine di un maggiore allineamento tra coperture finanziarie e correlati investimenti si è ritenuto opportuno interrompere il percorso istruttorio presso l'istituto finanziario e riproporre l'autorizzazione annuale per il medesimo importo in sede di approvazione del disegno di legge numero 231 bilancio di previsione finanziario 2023 2025 grazie ringraziamo l'assessore Maurizio Marrone per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame dell'interazione risposta immediata numero 1320 presentata dalla presidente Sara Di Sabato avente ad oggetto nomiera direttore direttrice del salone internazionale del libro la politica non faccia ingerenze sui nomi da includere del comitato editoriale ha chiesto di illustrare l'interrogazione la collega Sara Di Sabato prego collega nella facoltà per tre minuti grazie presidente il salone internazionale del libro di Torino rappresenta dal 98 la più grande fiera dell'editoria italiana ogni anno nel capoluogo piemontese si riunisce tutta la filiera del libro case editrici scrittori librai bibliotecari agenti illustratori traduttori e tantissimi lettori per gli editori dai grandi gruppi all'indipendenti il salone è la più importante occasione di vendita e di presentazione delle novità editoriali per tutti i lettori il salone è un grande festival internazionale della cultura 2000 ospiti da ogni parte del mondo per un totale di 1220 ogni anno arrivano al salone le autrici e gli autori che hanno fatto la storia della letteratura del novecento del novecento del nostro secolo ormai da 35 anni il salone internazionale del libro riveste un ruolo fondamentale non solo nell'ambito di una più stretta pertinenza quello culturale ma anche nella crescita e nello sviluppo economico turistico e strategico della città dell'area metropolitana e della regione quest'anno tra l'altro l'edizione del salone del libro si svolgerà dal 18 al 22 maggio nella cornice del lingotto fiere questa edizione sarà tra l'altro l'ultima diretta dal dottor Nicola Laggioia e questa è stata pubblicata è stata pubblicata infatti da parte del salone una manifestazione di interesse volta alla nomina di un nuovo direttore dell'edizione della fiera la nomina aspetterà il comitato di indirizzo del salone di cui fanno parte la regione Piemonte il comune di Torino il circolo dei lettori l'associazione Torino città del libro la definizione di un nome per la nomina del nuovo direttore è da diversi mesi in situazione di completo starlo perlomeno è stato anche oggetto di uscite politiche spiacevoli negli ultimi mesi per cui si sono lette diverse pagine di giornali dedicate al tema in particolare mercoledì 15 febbraio tra l'altro lo dico prima scherzavo ma in realtà questa interrogazione era prevista per la settimana scorsa quindi in realtà riportavamo il tema già una settimana fa il dottor Paolo Giordano scrittore fisico essendo tra i candidati alla direzione del salone internazionale del libro ha ritirato la propria candidatura rilasciando a mezzo stampa alcune preoccupanti dichiarazioni affermando mi sembra non ci siano più le condizioni negli ultimi giorni ho avvertito che non ci sarebbe stata piena libertà per me necessaria per accettare l'incalico di direttore del salone ho percepito chiaramente che non sarei stato pienamente libero e inevitabilmente ho preso la decisione di tirarmi fuori il giornale fanpage tra l'altro riporta un'altra importante dichiarazione del dottor Giordano a parte virgolette più che di pressioni politiche o partitiche parlerei di convenienze e posizionamenti ma la cultura e il salone del libro non meritano in ogni caso di essere lottizzati dal partitismo si parla tanto di pluralismo ma quello che mi spiace è che non c'è la fiducia nell'universalità dei libri e della cultura l'idea di polarizzare in particolare se si parla della cultura non mi appartiene direi tutto questo è sacrosanto il giorno successivo il notaio Giulio Bino presidente del circolo del lettore ha dichiarato a mezzo stampa di aver ricevuto una garbata richiesta del ministero della cultura il cui di Castero peraltro finanzia il salone attraverso il centro per il libro e la lettura di poter condividere all'interno del rinnovando comitato editoriale tre nominativi di espressione del ministero in merito a questa dichiarazione si legge sul giornale La Stampa che lo staff sta allestendo l'edizione 2023 si affretta a specificare che i consulenti editoriali sono nominati dal salone non dal ministero o da altri enti questa è la procedura queste sono le affermazioni che sono state fatte ovviamente noi a fronte di tutto ciò volevamo conoscere qual è la posizione della giunta sul tema della tutela del salone del libro e vorremmo sapere in particolare se la giunta è al corrente di eventuali imposizioni di nomi appartenenti al centro-destra nel comitato editoriale del salone internazionale del libro di Torino e in che modo intenda tutelare il salone del libro le future edizioni grazie grazie ringraziamo la presidente Sara Di Sabato per l'illustrazione anche un po' lunga e la giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando il vicepresidente Fabio Carosso prego assessore nella facoltà per 5 minuti grazie in merito all'interrogazione la regione ha preso all'esito dell'assituto del comitato direttivo del 16 febbraio scorso che la procedura individuata per la designazione del futuro direttore del salone del libro è stata dichiarata chiusa in quanto non ha prodotto i risultati attesi la regione ha partecipato ai lavori fin dal primo giorno operandosi per una soluzione condivisa nell'esecutivo interesse infatti infatti in sede di comitato direttivo aveva proposto per la direzione Elena Loventhal e Gianni Oliva nomi come noto di area politica ben diversa da quella del governo regionale ma scelti per i loro indiscutibili meriti personali e professionali tuttavia la nostra proposta non è stata accolta dalla componente privata del salone per quanto ci riguarda il salone del libro deve essere salvaguardato e questo vale per tutti perché è un bene troppo prezioso per il nostro Piemonte e per l'Italia per questo il presidente Cirio si è dichiarato fin da subito disponibile a condividere con il sindaco di Torino il presidente dell'associazione Torino la città del libro il percorso migliore per individuare un nuovo nome per la direzione del salone del libro nel 2024 e nel 2026 il salone è sempre stato libero e continuava ad esserlo esattamente come è avvenuto con Nicola Laggioia al quale come sottolineato da lui stesso in occasione della presentazione dell'edizione del 2023 è sempre stata garantita dal governo regionale così come delle altre istituzioni locali la massima autonomia decisionale e gestionale questo è il nostro modo di lavorare e così intendiamo continuare garantendo assoluto rispetto alle istituzioni del paese per un salone del libro che vogliamo libero e pluralista grazie grazie ringraziamo il vicepresidente carosso per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione risposta immediata numero 1322 presentata dal presidente Silvio Magliano venta d'oggetto ospedali del territorio urge sostituire i macchinari più obsoleti anche con i fondi PNRR quali tempistiche per le sostituzioni e quale destinazioni dei vecchi dispositivi ha chiesto di illustrare l'interrogazione il presidente Silvio Magliano prego collega nella facoltà per tre minuti grazie presidente il 13 luglio 21 il piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del consiglio europeo che ha recepito la proposta della commissione europea tra le missioni del PNRR è prevista la missione 6 salute i cui investimenti e riforme sono finalizzati a rafforzare la prevenzione di servizi sanitari sul territorio modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario garantire equità di accesso alle cure migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche promuovere la ricerca e l'innovazione e lo sviluppo di competenze tecnico-professionali digitali e manageriali del personale sanitario permesso altresì che in attuazione della DGR 25 5186 del 14 giugno 22 la regione Piemonte ha provveduto a impegnare la somma di 78 milioni 999 mila 659 euro sul capitolo 216850 a favore delle agenzie sanitarie regionali per l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero grandi apparecchiature sanitarie a valere sul PNRR missione 6 componente 2 intervento 1.1.2 sempre la somma invece ulteriormente la somma di euro 96 milioni 335 mila 809 56 sul capitolo 216870 2022 a favore delle aziende sanitarie regionali per l'attuazione relativa all'intervento PNRR denominato M6 C2 1.1 a modernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero digitalizzazione idea primo e secondo livello elevato che attualmente negli ospedali nelle strutture sanitarie piemontese sono ancora utilizzati dispositivi piuttosto vecchi talvolta da oltre 20 anni in particolare TAC mammografi sistemi radiografici e altre tecnologie sono attualmente attive presso la città dell'assoluto di Torino 10 dispositivi TAC con età media di 9.4 anni 7 dispositivi per risonanze magnetiche con età di 11.5 anni 11 mammografi con età media di 6.5 anni al Mauriziano di Torino è ancora attivo un sistema radiologico analogico del 2002 presso altri ospedali dell'ass di Torino si utilizzano tuttora tomografi prossimi ai 15 anni e tecnologia per la diagnostica radiologica che sfiora in alcuni casi i 20 anni considerato che l'innovazione è il perno su cui ruotano buona parte gli obiettivi del PNRR accedere e utilizzare i fondi del PNRR è di cruciale importanza per la nostra regione soprattutto per rinnovare e aggiornare il nostro sistema regionale l'aggiornamento dei dispositivi dei macchinari è uno dei fattori che costituisce insieme alla struttura e al personale l'efficienza generale nella struttura ospedaliera pur in un contesto generale migliore rispetto ad altre regioni italiane pur considerando che quasi sempre i dispositivi meno recenti sono utilizzati come appoggio o backup esistono significativi margini di miglioramento anche presso le nostre strutture e considerato che infine i fondi del PNRR sono da questo punto di vista un'occasione da non perdere evidentemente osservato che la situazione descritta è stata oggetto di recenti cronache giornalistiche sulle testate locali da cui l'oggetto del question time interrogo per conoscere con dettagli informativi sul destino del parco tecnologico sostituito le tempistiche dei prossimi acquisiti di tecnologia tramite i fondi del PNRR al fine di sostituire dispositivi obsoleti presso le strutture sanitarie del territorio regionale grazie Presidente ho concluso grazie ringraziamo il Presidente Silvio Magliano per l'illustrazione e la Giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando il Presidente Fabio Carosso prego Presidente nella facoltà per 5 minuti grazie con riferimento al quesito nel condividere che l'innovazione è il perno su cui svuotano buona parte degli obiettivi per il PNRR e che accedere e utilizzare i fondi del PNRR è di cruciale importanza per la nostra regione soprattutto per rinnovare e aggiornare il nostro sistema sanitario regionale si conferma che l'investimento ecco scusate che l'investimento sì scusate c'è un problema al limite sì prova adesso va procedo soprattutto per rinnovare e aggiornare il nostro sistema sanitario regionale si conferma che l'investimento 1.1.2 grandi apparecature sanitarie del PNRR consiste nel migliorare la digitalizzazione dell'assistenza e migliorare la qualità dei processi garantendo la sicurezza dei pazienti e l'erogazione dei servizi di qualità in attuazione della DGR 25 51 86 del 14 giugno del 22 la Regione Piemonte ha provveduto di impegnare con la delibera del 12 agosto del 22 numero 1515 la somma di 78 999 659 euro sul capitolo 21 68 50 barra 22 a favore dell'agenda sanitaria regionale per il modernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero l'investimento si riferisce all'amodernamento digitale del parco tecnologico ospedaliero tramite l'ostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente avanzati il target complessivo per il modernamento del parco tecnologico digitale appunto delle grandi apparecchiature sanitarie è pari a 181 elementi un importo complessivo appunto di 78 999 659 euro così come declinato acceleratori lineari 13 per 26 milioni rotti angiografi 12 per 7 milioni rotti ecotomografi 54 per 4 milioni 430 mila gamma camere 2 milioni e 625 numero 5 gamma camere tac 3 per 2 milioni e 3 e 79 mammografi 17 per 4 milioni 681 681 per tac 2 di 4 milioni 877 rnm a 1,5 t6 per 5 milioni 484 sistemi redelogici fissi 55 per 13 milioni 451 tac a 128 strati 14 per 7 milioni 521 per appunto il totale di 78 milioni 993 il crono programma dal POR e la messa in operatività delle grandi apparecchiature è il 31 12 2024 come rivolto di seguito sostituzione apparecchiature quindi 50% della spesa finanziata prevista entro settembre del 23 in proposito si informa che gli ordini di acquisto effettuati nelle aziende sanitarie a metà febbraio sono stati pari a 110 grandi apparecchiature quindi pari al 52 2,7 milioni sostituzione di apparecchiature quindi il restante 50% della spesa finanziata prevista entro settembre 24 e la messa in operatività delle grandi apparecchiature sanitari entro dicembre del 24 il parco tecnologico sostituito dovrà essere oggetto di messe in fuori uso e dismissione formale il prima possibile grazie grazie ringraziamo il presidente Carosso per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame dell'interazione risposta immediata numero 1327 presentata dal consigliere Alberto Vetta avente ad oggetto quale futuro per il parco dei cinque laghi di Ivrea ha chiesto di illustrare l'interrogazione il consigliere Alberto Vetta prego collega nella facoltà per tre minuti grazie presidente grazie anticipatamente al vicepresidente per la risposta che ci vorrà dare peraltro stiamo parlando di un tema che abbiamo già avuto modo di affrontare in altre in altre occasioni parco dei cinque laghi e porrediesi è un'idea progettuale che è già maturata che sta maturando da parecchi anni addirittura nel 2019 su impulso della città metropolitana di Torino che di fatto è l'ente gestione dei parchi era partito un gruppo di lavoro è stato avviato un gruppo di lavoro con i comuni interessati con la regione Piemonte per l'istituzione appunto del parco peraltro anche la giunta regionale più volte si era potuta esprima si era espressa dichiarandosi d'accordo con l'istituzione del parco sta di fatto che però ad oggi diciamo i promotori dell'iniziativa quindi i comuni interessati registrano una dilatazione dei tempi che riteniamo che si ritiene ingiustificata e soprattutto che desta qualche preoccupazione tanto è vero che qualche settimana fa la città metropolitana ha chiesto insomma ha scritto in regione Piemonte ha chiesto delucidazioni sullo stato di avanzamento dei lavori anche in vista della predisposizione del bilancio preventivo 2023 allora per questo chiediamo al Vice Presidente di aggiornarci sul sull'iter di questo diciamo del percorso di istituzione del parco e soprattutto sul modo con cui intendo dare impulso ad un progetto aggiornando anche il cronoprogramma che in modo da consentire sia i comuni che sono interessati dall'istituzione del parco e a tutte le istituzioni interessate di poter mettere in campo un'adeguata programmazione sia politica sia amministrativa grazie grazie ringraziamo il consigliere Alberto Avetta per l'ustrazione la giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando il Presidente Fabio Carosso prego Presidente ne ha la possibilità per 5 minuti grazie per quanto riferito appunto nell'interrogazione in merito all'istituzione del parco naturale in oggetto è stato presentato il 15 settembre del 22 dalla giunta regionale il disegno di legge numero 222 appunto l'istituzione del parco naturale dei 5 laghi di Ivrea modifiche normative cartografiche alla legge regionale 29 del giugno del 2009 che è il testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità il DDL è stato assegnato come sappiamo penso sappia anche il consigliere Avetta in tale data per l'esame in sede referente alla quinta commissione e di 19 settembre del 22 alla prima commissione in sede consultiva il 31 ottobre del 22 sono concluse le consultazioni pubbliche avviate dalla quinta commissione e quindi oltre a quello che è riportato appunto del fascicolo del DDL 2022 pubblicato sulla banca dati diciamo che il settore non ha ulteriori progressi comunicati ma le aggiungo quanto personalmente posso dire ho sentito anche i sindaci ho sentito il territorio come giustamente anche il collega Avetta e io ho detto e dichiarato che noi abbiamo tutta la disponibilità per portare avanti e con celerità per concludere l'atto quindi è una questione di sentire adesso le commissioni che ci diano i documenti per poter procedere la mia volontà è di poterlo fare nel più breve tempo possibile penso che ci sia l'unità di tutti per cui confido che nell'arco di qualche settimana si possa concludere l'atto credo che sia interesse ormai di tutto il territorio e assolutamente anche nostro sapevo che c'era qualche perplessità di alcune associazioni agricole come sappiamo tutti ma penso siano superate lì il problema è evidente che come sappiamo tutti nei parchi c'è una gestione della fauna soprattutto che è diversa da quella diciamo così dei territori liberi e quindi di cui Proco si basava su quello però il territorio mi sembra che l'85% potrei dire è tutto d'accordo per cui è proprio una questione solo burocratica ma chiuderemo il prima possibile grazie grazie ringraziamo il presidente carosso per la risposta e proseguiamo i lavori con l'esame dell'integrazione risposta immediata numero 1328 presentata dalla presidente Silvana Cossato avente ad oggetto discriminazione nell'accesso all'alloggio a canone agevolato illegittimità del requisito della residenza protratta per 5 anni e della clausola attributiva di punteggio preferenziale in caso di residenza protratta per 10 anni ha chiesto di illustrare l'interrogazione la presidente Silvana Cossato prego collega nella facoltà per 3 minuti grazie presidente l'interrogazione e risposta immediata che ho presentato riguarda una ipotesi di discriminazione nell'accesso all'alloggio a canone agevolato il tema è legato alla richiesta al requisito di residenza protratta per 5 anni e ulteriormente una clausola di punteggio preferenziale di residenza protratta per 10 anni nel medesimo comune mi riferisco a una determinazione dirigenziale dell'ATC del Piemonte centrale del primo giugno 22 relativa a un bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi liberi in Castellamonte per il quale appunto si richiedevano particolari requisiti di reddito minimo per l'accesso e anche richiamando un regolamento del 94 per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni tra i requisiti quello appunto di residenza in Italia e di attività lavorativa stabile di almeno 5 anni requisito richiesto soltanto per i cittadini extra Unione Europea ulteriormente questo bando tra le condizioni che danno diritto a punteggio preferenziale poneva anche le condizioni di essere risidente nel comune di Castellamonte da almeno 10 anni e a questa condizione l'assegnazione di punti 8 questa in particolar modo la questione dell'attribuzione del punteggio è particolarmente discriminatoria e controversa perché sono assegnati per esempio un punteggio ben inferiore è quello dell'anzianità di residenza rispetto a quello assegnato per esempio alla famiglia numerosa composta da 3 o 4 persone a cui vengono assegnati solo da un punto a 3 punti quindi insomma per farla breve una persona che può far valere gli 8 punti di residenza nel comune riesce pur non avendo altri requisiti a sovrastare situazioni economico-familiali ben più gravi su questa vicenda l'associazione di studi giuridici sull'immigrazione ha fatto una segnalazione all'ATC e anche alla presidenza della regione Piemonte che non ha avuto ad oggi riscontro e ha promosso un ricorso presso il tribunale di Torino di cui attendiamo pronunciamento tenendo conto che questa questione il termine della residenza quinquennale è già stato oggetto di sentenze da parte della Corte di Cassazione della Corte d'Appello di Milano di alcuni tribunali che l'hanno ritenuto appunto illegittimo ancorché si può anche fare un riferimento all'irragionevolezza rispetto all'eventuale interesse della regione Piemonte perché essendo riferito l'interesse all'intero territorio nazionale non produce alcuna particolare relazione incidenza sulla stabilizzazione del cittadino straniero in questa regione nella nostra regione se questo volesse essere l'obiettivo ecco che a fronte di questa situazione di questo intervento e atteggiamento dell'ATC del Piemonte centrale questa interrogazione volta a sconoscere quali azioni la regione Piemonte abbia messo in atto per intervenire rispetto a questa discriminazione che è stata compiuta dall'ATC a nostro avviso dall'ATC Piemonte centrale grazie grazie ringraziamo la presidente Silvana accostato per l'istruzione e la giunta ha chiesto di rispondere all'interrogazione delegando il presidente Fabio Paroffo prego presidente nella facoltà per 5 minuti grazie la ringrazio che mi chiama sempre presidente sono sempre ancora il vice quindi sopra rispetto ai presidenti la mia risposta sarà un po' breve ma in quanto ve lo spiego subito il riferimento all'interrogazione è ben evidenziato dalla consigliera accostato che è interrogante ma la tematica di cui tratta si è attualmente oggetto di un ricorso presso il tribunale di Torino e quindi con costituzione di giudizio dall'amministrazione regionale per cui è evidente che dobbiamo attendere l'esito e la decisione del tribunale con la conclusione del procedimento per intraprendere eventualmente qualsiasi azione per cui la risposta si conclude molto brevemente così grazie grazie ringraziamo il vicepresidente Fabio Carosso che congediamo e proseguiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione risposta immediata numero 1329 presentata dal presidente Giorgio Bertola avente ad oggetto richiesta informazioni su eventuali ampliamenti delle attività estrattive nella cava posta in località Cascina Rognone provincia di Alessandria ha chiesto di illustrare l'interrogazione il presidente Giorgio Bertola prego collega nella facoltà per tre minuti grazie presidente appunto noi chiediamo informazioni sull'eventuale ampliamento delle attività estrattive nella cava posta in località Cascina Rognone nel comune di Castellazzo Bormida in provincia di Alessandria nel 2020 era stato presentato un primo progetto di rinnovo e ampliamento della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia appunto in questa località da parte della ditta Allara che aveva realizzato già la prima cava la conferenza dei servizi della provincia di Alessandria intervenuta nell'istanza procedimentale aveva dato parere negativo al progetto sta di fatto che la zona limitrofa è soggetta a nuovo ampliamento di attività estrattiva è stata confermata da diversi studi commissionati dall'associazione ambientalista e dai comuni limitrofi come soggetta a importante rischio alluvionale quindi per questo motivo noi interroghiamo la giunta per sapere se è favorevole anche sulla base dei suoi documenti di programmazione ad esempio il Prae all'ampiamento dell'attività estrattive nella cava posta in località Cascina dell'Unione visti i precedenti pareri contrari all'ampiamento e le problematiche del territorio che è soggetto appunto a forte rischio alluvionale grazie ringraziamo il presidente Giorgio Bertola per l'ustrazione ed in accordo con il presidente Carosso risponderà all'interrogazione l'assessore Fabrizio Ricca prego assessore nella facoltà per 5 minuti grazie presidente ringrazio il presidente Bertola per l'interrogazione col quale diciamo darò anche poi nota tecnica di tutti i passaggi tecnici però per rispondere all'interpellanza non si rilevano elementi ossativi al progetto tenuto conto dello studio idraulico predisposto dal comune di Casserlazzo Bormida delle considerazioni riportate nei pareri prevenuto nelle risultanze dell'esame della documentazione progettuale originaria e integrativa considerato che alla società all'ara SPA effettuato il pagamento delle tariffe regionali del diritto di escavazione l'indirizzo e l'espressione di un parere favorevole al progetto di rinnovo di ampliamento della coltivazione della cava di ghiaia e sabbia sita in località Regina Cascina Rognolo del comune di Casserlazzo Bormida Bormida a condizione che il proponente si attenga alle prescrizioni tecniche sopra elencate ovviamente poi adesso per conto del mio collega Tronzano darò anche tutta la parte tecnica così da poterle esaminare con più attenzione grazie presidente ringraziamo l'assessore Fabrizio Ricca per la risposta e concludiamo i lavori con l'esame dell'interrogazione risposta immediata numero 1330 presentata dal presidente Paolo Ruzzo alla venta d'oggetto carenza dei pediatri di libera scelta l'interrogante ha chiesto la risposta scritta e a ringraziare il presidente Stefano Allasia per la delega dichiaro chiusa la seduta dell'interrogazione risposta immediata e alle ore 15 e 45 il presidente aprirà la seduta del consiglio regionale sospesa alle ore 12 e 45 grazie e buona salute a tutti e a tutte grazie a tutti 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 possiamo 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 grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 grazie a tutti 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 sotto contro contro grazie a tutti 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 e a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e a tutti grazie 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 a tutti e a tutti grazie 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti